Il progetto si lega a un bando che abbiamo vinto nel 2020 di 600.000 euro, finanziato con il comune di Belluno per 330.000 euro. Il progetto ha l'obiettivo di mettere in sicurezza questo tratto di strada molto trafficato e soprattutto il ponte della Veneggia. È uno dei punti più critici della viabilità cittadina e provinciale, quel ponte della Veneggia dal quale nell'ottobre del 2018 volò giù tragicamente un camionista della BRT nel tentativo di evitare un'automobile che invadeva la sua corsia, l'ennesimo incidente sul tratto che aveva spinto il comune ad accelerare sul fronte della sicurezza. Due gli interventi principali, il primo consisterà nello spostare all'esterno i parapeti originali come richiesto peraltro dalla sovrintendenza, poi si realizzerà una pista ciclopedonale. In realtà l'obiettivo resta più ambizioso e riguarda l'intera Via Tiziano Vecelio. La regia generale è partita da alcuni anni fa, era quella appunto di mettere tutta la strada in sicurezza e infatti ci sono due progetti che incombono su questo tratto di strada. Il primo appunto parte laddove la ciclopedonale va a morire che è prima del ponte del Mega e arriva fino a qui dove siamo oggi all'Arpav, agli uffici dell'Arpav e l'altro tratto continuerà con la Digenerazione Urbana 1 che dall'Arpav arriverà all'ex invensis. Praticamente metteremo tutta Via Tiziano Vecelio in sicurezza. Grazie. Grazie.